Sindaco, un importante momento di promozione per la città della città. Sì, siamo molto contenti che il maestro Eibolo Ferrara abbia scelto Monte Sant'Angelo come set cinematografico per questa nuova produzione sul Santo da Pietralcino. Sono contento per le parole che ha detto anche in conferenza stampa su Monte Sant'Angelo, questo luogo mistico, lo ha definito ascetico anche, in cui lui ha trovato la giusta location per fare questo nuovo suo lavoro. Devo dire che le sue parole ci hanno riempito veramente il cuore perché finalmente si dà a Monte Sant'Angelo la giusta collocazione anche in uno scenario internazionale, come quello religioso naturalmente, anche come città meravigliosa in cui girare delle produzioni importanti. Grazie ad aprire la Film Commission negli ultimi anni sono stati girati non pochi film. Questo significa anche non solo promozione ma anche sviluppo ed economico. Beh, è chiaro che il film porta con sé non solo direttamente dei ritorni, non solo per le maestranze coinvolte e tutto il resto, ma è anche uno strumento di promozione molto importante che è il veicolo alla nostra città, Monte Sant'Angelo, la città dei due siti di Unesco in giro per il mondo e quindi a livello internazionale.